Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo argomento di cui ci occupiamo all'interno di questo corso iniziamo a occuparci oggi come già annunciato di grafi grafi che già in parte conoscete perché derivano in parte dalla vostra conoscenza che avete nel corso di ricerca operativa ma ovviamente qua cercheremo di reinterpretarli in modo un pochino più informatico, un pochino più algoritmico e soprattutto impareremo a lavorare attraverso i grafi con le strutture dati che provengono dai database così come abbiamo iniziato a fare con le strutture più semplici la lezione di oggi è divisa in due parti nella prima parte farò un richiamo relativamente rapido sulla definizione e la terminologia legata ai grafi tanto per rinfrescarci un pochino le idee e magari allinearci sulla terminologia con la quale rappresentiamo le varie informazioni sui grafi e mentre la seconda parte invece sarà il primo approccio, faremo la conoscenza con la libreria che si chiama JGraphT con la quale appunto lavoreremo all'interno degli esercizi e che già implementa molte delle funzionalità di base per poter leggere, lavorare e eseguire certi algoritmi sui grafi che costruiremo allora iniziamo la parte introduttiva sui grafi andando innanzitutto a richiamare quella che è la definizione di un grafo un grafo è un'entità matematica astratta di fatto che si può definire come un insieme di punti astratti e un insieme di linee astratte che li collegano parlo di punti e linee astratte perché questi punti e linee non sono necessariamente collegati a una coordinata cartesiana quindi non sono punti che sono appartenenti a un piano, a uno spazio ma sono entità astratte che poi potremmo collegare geograficamente ma non siamo necessariamente costretti a farlo ecco questi punti a volte si chiamano nodi, a volte si chiamano vertici del grafo e linee che collegano questi punti normalmente prendono il nome di archi del grafo stesso la parola archo tra l'altro in italiano è tradotta in inglese in due modi diversi come edge oppure come arc quindi dobbiamo un po' abituarci a queste terminologie quindi essendo un'entità così astratta il grafo molto spesso ha delle varianti terminologiche che dipendono un po' dal dominio in cui viene applicato ma noi cercheremo nel seguito di usare le definizioni che vengono proposte dall'enciclopedia di WolframAlpha tanto per avere un punto di riferimento rispetto alle tante definizioni alternative un grafo nella struttura dati molto versatile tanto che viene usata in varie forme in vari campi della scienza qui vediamo alcuni esempi in cui varie discipline in realtà usano sempre la stessa struttura dati che è il grafo per rappresentare invece entità che dal loro punto di vista applicativo sono anche molto diverse tra di loro allora noi dal punto di vista matematico quello che vediamo è il denominatore comune rispetto a tutte queste rappresentazioni quale sia la vera essenza dell'informazione cioè un insieme come dicevamo di punti, nodi, vertici connessi da un insieme di archi oppure connessioni oppure linee tra di essi è però necessario fare una precisazione terminologica perché la parola grafo può essere usata diciamo così con significati molto diversi ad esempio la parola grafo in inglese può essere usata anche per indicare un grafico di una funzione come possiamo indicare qua noi in italiano tenderemo a chiamare grafico questo tipo di rappresentazione a differenza del grafo matematico che in inglese è sempre graph ma in italiano tendiamo a chiamarlo grafo quindi cerchiamo di non chiamare grafico questa rappresentazione qua matematica in italiano chiamiamo grafico in realtà anche una cosa che corrisponde ad esempio a histogrammi, diagrammi a linee quindi diagrammi business, noi lo chiamiamo grafico, potremmo chiamarlo più correttamente diagramma in inglese si chiamano chart tipicamente ma possono anche chiamarsi graph allora sono tre cose completamente diverse, non ha nulla a che vedere l'una con l'altra il grafico della funzione, il grafico diciamo così di Excel e il grafo matematico quindi cerchiamo solo di non far confusione anche quando poi andiamo a cercare informazioni per favore non chiamatemi grafico un grafo perché alimenta solamente la confusione ok, la storia della teoria dei grafi risale circa agli anni 30 quando fu inventata essenzialmente la base matematica con la quale appunto la teoria dei grafi è stata fondata e questo è stata in un certo senso l'estensione di uno studio di alcuni problemi matematici che attalongiavano i matematici dell'epoca ad esempio già ai tempi di Eulero quindi nel XVIII secolo c'erano alcuni rompicapi matematici di cui in questo caso Eulero ha dato una dimostrazione nel caso specifico ma che poi vedremo che in realtà grazie alla teoria dei grafi si possono risolvere nel caso generale la teoria dei grafi appunto fu introdotta negli anni 30 del secolo scorso quindi siamo circa 90 anni fa e questo, diciamo, il pretesto per introdurre questa teoria fu proprio il diagramma, il dilemma dei sette ponti della città di Königsberg che è una città reale, in realtà esiste, è messa qua in Estonia se non sbaglio no scusate, ancora in Polonia e in questa città di fatto è attraversata da un fiume che poi si divide per formare due isole diverse con ponti diversi e la domanda era se è possibile fare una passeggiata che partendo da un qualunque punto della città attraversi tutti i ponti una sola volta, senza quindi attraversare lo stesso ponte due volte e tornare al punto di partenza e questo è un passatempo e si dimostra che questo non è possibile ecco, questo è un problema specifico, concreto un problema di logistica, di trasporto, con certi vincoli che però, attraverso la teoria dei grafici, si può astrarre e rappresentare in un modo, diciamo così, più astratto e, diciamo, questo è stato poi il pretesto per fondare appunto la teoria matematica anche se, vabbè, queste vignette qua ci suggeriscono modi curiosi o alternativi di risolvere il problema come ad esempio quello di aggiungere un ponte oppure di far esplodere un ponte oppure, vabbè, cose ancora più curiose come clonarsi in modo da essere due persone diverse oppure usare il teletrasporto per ritornare al punto di partenza quando non era possibile chiaramente queste sono tutte soluzioni che vanno bene in una vignetta comica ma non in un problema matematico a partire da appunto 90 anni fa si è sviluppata questa teoria matematica che ha definito questi nuovi oggetti matematici che in realtà sono non esiste un tipo solo di grafo ma esistono varie tipologie perché permettono di rappresentare più fedelmente varie tipologie di problemi tipicamente quando si parla di grafo si parla di quello che qua è indicato come grafo semplice un grafo semplice è un grafo in cui ho un certo numero di vertici e tra ogni coppia di vertici o nodi può esserci un arco come qui oppure può non esserci un arco come qui e basta se c'è un arco ce n'è uno solo quindi non ha senso parlare di più archi che colleghino gli stessi vertici cosa che invece avviene in un multigrafo in un multigrafo tra due qualunque vertici può non esserci nessun arco può esserci un arco come qua oppure come qua oppure può esserci anche più di un arco che colleghi la stessa coppia di vertici è chiaro che dipende dal problema che stiamo rappresentando se abbia più senso una rappresentazione a grafo semplice oppure a multigrafo e quindi tutti gli algoritmi di cui ci occupiamo dovranno poi ogni volta tenere conto delle differenze così come potremmo noi chiederci se abbia senso nel problema che stiamo considerando valutare un arco che inizi e termini nello stesso vertice un cosiddetto loop in italiano lo chiamiamo un cappio che richiude su se stesso il collegamento in questo caso abbiamo un... si chiama pseudografo un grafo che permette dei cappi quindi archi che collegano nodi con se stessi in questo caso questo pseudografo è anche un multigrafo perché questo cappio, tanto per complicarci le cose l'abbiamo disegnato doppio quindi esistono... il grafo semplice è questo poi possiamo vedere le estensioni che possono essere verso il multigrafo o verso lo pseudografo o verso il pseudomultigrafo che in alcuni casi, diciamo così, sono più adatti a presentare il problema che non il grafo semplice questa è una prima dimensione quella della molteplicità degli archi l'altra dimensione con cui i grafici differenziano è quella della direzione degli archi quindi possiamo avere un grafo in cui semplicemente gli archi e i vertici sono connessi oppure non sono connessi in questo caso questi due vertici sono connessi ma non esiste una direzione della connessione da sinistra verso destra o da destra verso sinistra semplicemente sono collegati si barra no quindi in questo caso parliamo di grafi non orientati non diretti, undirected o non orientati invece in tutti gli altri casi abbiamo dei grafi che sono orientati adesso qui c'è una differenza tra oriented e directed ma nella pratica questa differenza da queste due definizioni non si nota non si trova parliamo di grafi orientati quando ogni arco ha una sua ben precisa direzione quindi in questo caso l'arco va da questo vertice a quest'altro vertice e non viceversa quindi dal secondo vertice verso il primo non esiste un arco ovviamente ci sono i casi in cui l'arco esista sia all'andata che al ritorno in questo caso disegneremo due archi con due frecce diverse oppure un arco con una doppia freccia per indicare questa situazione quindi in questo caso l'arco di andata e l'arco di ritorno sono due entità diverse poi in alcuni casi quando un grafo orientato a un peso quindi un valore numerico associato agli archi viene a volte chiamato una rete una network ma questo è un caso abbastanza particolare ecco a proposito di archi o di pesi finora abbiamo disegnato questi archi questi grafi quindi sia i vertici che gli archi in un modo totalmente anonimo quindi sono dei puntini in uno spazio astratto e delle linee in uno spazio astratto ma a volte a questi archi e a questi vertici vogliamo attribuire una specificità un valore o una qualità allora in questo caso stiamo parlando di etichettature di grafi possiamo avere dei grafi in cui etichettiamo gli archi quindi ad esempio questo arco etichettato col valore 1 questo arco etichettato col valore 3 e così via oppure possiamo etichettare i vertici quindi il vertice 1, 2, 3, 4 o viceversa normalmente queste etichette assumono il significato di un peso di un costo, di un valore che attribuiamo al fatto di essere un certo vertice oppure il fatto di aver attraversato un certo arco come sempre qui le definizioni sono astratte poi a seconda del problema specifico il significato fisico del peso di un arco lo si vedrà altre volte invece si vogliono raggruppare vertici o archi in categorie diverse e quindi si associa un'etichetta di classe a ciascun vertice oppure di un arco che per comodità viene chiamata colore quindi noi abbiamo questo vertice questo grafo dove abbiamo quattro vertici di quattro colori diversi normalmente lo stesso colore può comprendere più vertici e quindi avremo raggruppato all'interno del nostro grafo più vertici dandogli lo stesso colore questa definizione di colorazione è nata da un problema ma anche qui un problema matematico molto famoso che è quello della colorazione delle mappe delle cartine geografiche il famoso teorema di quattro colori dice che qualunque cartina si può colorare solamente con quattro colori mentre invece non è possibile in generale colorare una cartina con solamente tre colori e questo si può rappresentare molto bene con un grafo in cui tu hai i vertici che sono le nazioni l'arco che indica se le durazioni siano confinanti oppure no e poi a questo punto devi scegliere un colore per ciascun vertice in modo che coppie di vertici e diacenti abbiano sempre colori diversi quindi questo è il motivo nel problema pratico da cui è venuto in mente l'idea di concepire questi vertici quindi ciascuno con un colore diverso noi usiamo il termine colore ma in realtà è più in generale una classe diversa una categoria, un gruppo diverso quindi dal punto di vista più formale tutti questi nostri grafi li abbiamo per ora disegnati in nero su bianco ma proviamo, dobbiamo cominciare diciamo così a definirli un pochino più dal punto di vista matematico numerico allora dal punto di vista matematico un grafo è definito da una coppia qui parla di un grafo diretto e orientato che in realtà è il caso più generale il grafo in cui i vertici sono orientati allora un grafo g lo definiamo dal punto di vista insiemistico come una coppia di elementi v ed e v non è altro che un insieme v è un insieme tipicamente finito nel nostro caso trattiamo graffi finiti di vertici un insieme che contiene l'elenco di vertici appunto essendo un insieme questo non ha un ordine particolare non ha un valore associato particolare ma semplicemente l'elenco il gruppo di tutti i vertici e invece l'insieme E è un insieme di archi che identificano una relazione binaria tra i vertici quindi di fatto l'insieme degli archi è un sotto insieme del prodotto cartesiano vertice su vertice quindi vuol dire è un insieme che contiene un sotto insieme di tutte le possibili coppie di vertici quindi ad esempio se noi prendessimo questo tipo di grafo avremmo un grafo che lo potremmo rappresentare attraverso un insieme di vertici che corrisponde ai numeri interi dall'1 al 6 quindi l'insieme V contiene i valori 1, 2, 3, 4, 5, 6 in questo caso notiamo tra l'altro che questo è un absoluto grafo perché abbiamo inserito nel disegno un cappio quindi la descrizione che stiamo dando adesso in realtà è molto generale perché va anche a catturare questo tipo di categorie di grafi ecco se lo vogliamo applicare la definizione di grafo a questo specifico ciò che troviamo è che cominciavamo l'insieme dei vertici e l'insieme dei numeri interi naturali da 1 a 6 e l'insieme di archi sarà un insieme di coppie quindi ciascun arco è una coppia di vertici una coppia orientata di vertici quindi vertici di partenza virgola vertice di arrivo quindi qui abbiamo un insieme di molti di questi vertici qui vediamo che il primo vertice 1, 2 è rappresentato da questo freccia che va dal scusate il primo arco 1, 2 è rappresentato da questa freccia che va dal vertice 1 al vertice 2 l'arco 2, 2 rappresenta il cappio che insiste sul vertice 2 proviamo un altro l'arco che va da 5 a 4 è rappresentato qua da questa coppia di elementi 5 e 4 che è chiaramente distinta rispetto all'altro arco che va da 4 e 5 che invece è rappresentata da quest'altra coppia di elementi 4 e 5 quindi ogni arco disegnato nella figura viene rappresentato tramite una coppia di elementi e questi elementi chiaramente sono presi dall'insieme dei vertici che abbiamo i vertici li abbiamo chiamati con dei numeri quindi queste saranno le coppie di numeri se i vertici li avessimo chiamati A, B, C, D, E queste saranno coppie che sono composte dalle lettere A, B, C, D, E e così via quindi questa è una rappresentazione molto semplice insiemistica insieme di vertici insieme di archi ogni arco coppia di vertici questo per quanto riguarda i grafi orientati nel caso dei grafi non orientati si può dare una definizione analoga con la differenza che l'insieme E è fatto di coppie non orientate coppie non orientate significa che quando io do una coppia 4 e 5 automaticamente sottintendo che la coppia 5 e 4 sia anch'essa presente o viceversa se manca la coppia 1 e 3 allora do per sottinteso che anche la coppia 3 e 1 non farà parte del grafo questo è un esempio di un grafo non orientato sui stessi 6 vertici e in questo caso l'arco 1 e 2 viene rappresentato da un insieme non più di una coppia perché a questo punto l'insieme è l'arco che tocca il vertice 1 e il vertice 2 non sto più dicendo qual è il vertice di partenza e qual è il vertice di arrivo qui non ho un primo o un secondo vertice da mettere in una coppia di elementi ma un insieme di vertici di due vertici di cardinalità 2 che sono gli estremi di questo arco quindi lo distinguiamo anche dal punto di vista matematico dal fatto che l'arco è rappresentato non da una coppia di elementi ma da un insieme di due elementi il fatto che sia un insieme di fatto rimuove l'ordinamento matematicamente tra questi due elementi quindi non parlo più di partenza e di arrivo ma parlo del fatto che l'arco tra due elementi esista oppure non esista cambia anche un po' la terminologia perché non possiamo più dire l'arco che va da 1 a 5 o da 5 a 1 perché non c'è questa direzione allora diremo l'arco incidente tra il vertice 1 e il vertice 5 oppure adiacente al vertice 1 e al vertice 5 quindi usiamo questo termine di adiacenza o incidenza per indicare quali archi sono appunto incidenti rispetto a quali a quali vertici e viceversa quali sono i vertici che sono adiacenti a un determinato arco è solo una questione di terminologia che a volte appunto negli grafi orientati si usa più partenza e arrivo sorgente e destinazione mentre invece negli grafi non orientati si cerca di usare dei sostantivi che siano più neutri o più che non suggeriscono un orientamento nel percorso poi tra l'altro è perfettamente possibile non l'abbiamo notato prima ma lo notiamo in questo grafo che alcuni vertici possono essere totalmente isolati cioè che non abbiano nessuna connessione con nessun altro vertice del grafo così come una parte del grafo come ad esempio questi due vertici qua torno indietro togliendo le etichette gialle è separato dal resto del grafo allora queste nozioni di collegamento non collegamento fanno parte di definizioni un pochino più avanzate che andiamo ad analizzare sulle varie proprietà dei grafi allora diamo alcune definizioni molto rapidamente in un grafo ogni vertice ha un certo numero di archi incidenti ad esempio in questo vertice qui ci sono tre archi questo questo qui e quello che va in basso quindi diciamo che il grado di questo vertice è pari a 3 cioè il grado non è altro che il numero di archi che incidono su quel vertice questo nel grafo non orientato è semplice in un grafo orientato diventa più complicato perché devo distinguere se sto parlando di archi uscenti allora in questo caso parlerò di out degree numero di archi che escono dal determinato vertice oppure il numero di archi entranti allora parlerò di in degree numero di archi che entrano oppure in generale il grado sarà la somma dei due quindi il numero totale di archi compresi quelli entranti e quelli uscenti nel caso ovviamente di un grafo orientato devo sempre fare la differenza e quindi il nostro vertice di prima che avevamo chiamato vertice isolato non è altro che un vertice di grado pari a zero quindi qui vediamo il grado che è stato associato a ciascuno di questi vertici di questo grafo non orientato se facessimo lo stesso esercizio su un grafo orientato dovremmo per ogni vertice distinguere l'in degree dell'out degree quindi in questo caso il vertice 1 ha un arco entrante quindi l'in degree pari a 1 e un arco uscente quindi l'out degree pari a 1 il vertice 5 ha due archi entranti quindi un in degree pari a 2 e un arco solo uscente l'out degree pari a 1 il vertice 2 dipende un attimo come lo contiamo perché questo arco che entra ed esce dal vertice stesso possiamo contarlo come sia entrante che uscente allora in questo caso di entranti ne avrei 2 questo e questo e di uscenti ne avrei 3 1, 2, 3 oppure possiamo dire che visto che esce ed entra si semplifica si cancella da solo e quindi non lo calcoliamo ha senso calcolarlo o no? beh dipende dalle applicazioni facciamo attenzione ad esempio anche al vertice 3 che ad esempio ha un out degree pari a 0 in certo senso quando arrivo a questo vertice non riesco più a uscirne così come il vertice 6 che ha un in degree pari a 0 e quindi non è possibile in nessun modo arrivare in quel vertice lì o ci sei nato oppure non ci puoi arrivare interpretando diciamo le frecce come una sorta di trasporto ok questa è una definizione tutto sommato semplice e interpretando i grafi appunto come diciamo collegamenti che possono essere utilizzati per diciamo connettere vari punti ha senso non parlare solamente della connessione tra due vertici ma si può parlare di un cammino più lungo che attraversi magari più archi per arrivare da un vertice oppure ad un altro vertice quindi noi possiamo avere due vertici che sono direttamente collegati tra di loro oppure che non sono collegati tra di loro ma sono collegati attraverso una serie di archi questa serie di archi diventa prende il nome di un cammino un puff sul grafo questo cammino lo possiamo definire come nei grafi semplici soprattutto con una sequenza di vertici vertici di partenza v1 vertici di arrivo v con n e una serie di vertici intermedi tutti questi vertici collegano il vertice di partenza e il vertice di arrivo se tra ogni coppia di vertice successivo in questa sequenza quindi tra v1 e v2 c'è un arco tra v2 e v3 c'è un arco tra v3 e v4 c'è un arco eccetera eccetera tra vn-1 e vn c'è un arco allora se ogni coppia di elementi consecutivi nella sequenza di fatto corrisponde a un arco quindi appartiene all'insieme degli archi allora questo effettivamente è un cammino valido un cammino valido che mi porta da v1 a vn questo vale sia per i grafi non orientati che per i grafi orientati ovviamente interpretando questa presenza dell'arco come presenza dell'arco to cure semplicemente per un grafo non orientato oppure presenza nell'arco con l'orientamento giusto ovviamente nel caso in cui il grafo sia orientato la lunghezza del cammino è il numero di archi che viene attraversato attenzione il numero di archi non è il numero di vertici i vertici sono sempre più di uno uno in più rispetto agli archi chiaramente e a questo punto se esiste almeno un cammino tra un vertice di partenza a e un vertice di arrivo b diremo che b è raggiungibile partendo da a quindi un conto dire che b è connesso ad a vuol dire che c'è un arco via vb un altro conto è invece dire che vb è raggiungibile da via vuol dire che esiste una sequenza di una lunghezza anche arbitraria che di archi consecutivi che permette di raggiungere un vertice partendo dall'altro qui esiste un caso molto semplice in cui abbiamo un cammino che possiamo identificare dai vertici 1, 2 e 5 questo è un cammino valido perché tra 1 e 2 c'è un arco e tra 2 e 5 c'è un altro arco e quindi il vertice 5 è raggiungibile dal vertice 1 o è anche direttamente connesso ma questo non c'entra indipendente è sicuramente raggiungibile attraverso questo cammino abbiamo trovato un possibile cammino che collega 1 con 5 un caso particolare di cammino è un cammino in cui il vertice di arrivo sia uguale al vertice di partenza allora in questo caso si chiama ciclo quindi un cammino in cui parto da un vertice come questo dall'1 vado al 2 poi vado al 5 e poi dal 5 torno all'1 in questo caso ho creato un cammino chiuso che prende il nome di ciclo esistono dei grafi che al loro interno contengono dei cicli invece esistono dei grafi che all'interno non contengono dei cicli in questo caso vengono chiamati grafi aciclici che hanno certe proprietà che vedremo tra cui ad esempio gli alberi sono un esempio di grafo aciclico questa nozione di cammino ci permette finalmente di parlare di connettività dei grafi noi sappiamo facilmente trovare se c'è un vertice isolato perché lui avrà grado uguale a 0 e il grado basta contare gli archi ma se c'è invece un pezzo di un grafo che non è collegato è staccato da un'altra parte di un grafo non lo posso analizzare guardando il singolo vertice perché il singolo vertice poverino è collegato a un po' di vicini ma se ragioniamo in termini di cammini noi diciamo che un grafo è connesso connesso vuol dire che è tutto connesso un pezzo unico se per ogni coppia di vertici c'è almeno un cammino che li collega non vuol dire che ogni coppia di vertici è collegata c'è un arco non c'è scritto che ci sia un arco che li colleghi ma è un cammino fatto eventualmente da più archi anche eventualmente lungo ma è sempre possibile partire da un vertice e arrivare a un altro vertice a qualunque altro vertice da qualunque vertice di partenza facendo un cammino più o meno lungo è possibile sempre raggiungere un altro vertice se questo avviene allora diciamo che il grafo è un grafo connesso se invece il grafo non fosse connesso vuol dire che esistono dato un certo vertice possono raggiungere un certo numero di altri vertici e non altri insiemi quindi però i vertici che possono raggiungere dal primo vertice di partenza lo chiamiamo una componente connessa del grafo cioè un insieme di vertici che sono tutti raggiungibili tra di loro se questi vertici tutti raggiungibili tra di loro questa prima componente connessa non esauriscono l'intero grafo allora l'intero grafo non sarà di per sé connesso e quindi potrò prendere un altro vertice da un'altra parte e andare a vedere quali sono i vertici a lui connessi da lui raggiungibili e quindi avremo una seconda componente connessa ed eventualmente una terza e così via quindi un grafo o è un grafo connesso fatto da un'unica componente connessa in cui tutti i vertici sono raggiungibili uno rispetto all'altro oppure fatto di più componenti connesse che tra di loro sono disgiunte come ad esempio questo grafo che è fatto che è composto da tre componenti connesse quindi se sono in questo vertice 2 potrò raggiungere 1 e 5 e viceversa se sono in 5 posso raggiungere 1 e 2 a piacere e così con questa componente posso viaggiare liberamente su interno ma tra la componente centrale e la componente di destra non esiste nessun arco tra nessun vertice di questa e nessun vertice dell'altra quindi queste sono due componenti disgiunte tra di loro quindi questo grafo complessivamente non è connesso queste definizioni si complicano un tantino se parliamo invece di grafi orientati dove non è scontato che se posso andare da 1 a 2 possa anche poi tornare indietro da 2 a 1 e quindi esiste una nozione di connettività forte che si definisce nei grafi diretti che dicono essenzialmente per ogni coppia ordinata rispetto alla definizione di prima è comparsa una parolina in più se un grafo è fortemente connesso se per ogni coppia ordinata di vertici esiste almeno un cammino che collega via v' ovviamente rispettando l'orientamento dei vertici questo è un esempio di un grafo che è fortemente connesso se ci pensate io posso partire da 1 a arrivare a 2 facilmente posso da 1 arrivare a 4 attraverso 2 oppure attraverso la via diretta da 1 arrivare a 5 passando da 2 da 2 poi posso tornare a 1 beh non direttamente però potrei passare da 4 e poi tornare a 1 quindi se fate qualunque possibile combinazione vi accorgete che da qualunque vertice di partenza posso arrivare a qualunque vertice di arrivo quest'altro invece esempio in cui rispetto a questo ho rimosso un paio di grafi un paio di archi non è più strettamente connesso questo lo si vede facilmente perché ad esempio 1 non ha archi entranti e quindi se parto da 5 non c'è nessun modo per arrivare a 1 quindi da 1 posso arrivare a 5 passando a 2 ma da 5 non posso arrivare a 1 così che se parto in 4 in realtà non posso arrivare da nessuna parte perché 4 non ha archi uscenti poi ovviamente ci sono altri casi particolari in cui più in generale anche se tutti i vertici hanno sia archi entranti che archi uscenti magari per come sono disposti esistono alcune coppie di vertici che non sono raggiungibili vicendevolmente ma il concetto di collettività nei grafi non orientati orientati perdon diretti è un pochino complesso da trattare quindi noi non ce ne occuperemo molto al di là di queste prime definizioni di base un'altra definizione che può essere utile è quella di un grafo completo un grafo completo è un grafo che contiene tutti gli archi potenzialmente esistenti quindi vuol dire che qualunque coppia di vertici questi sono connessi esiste un arco che li collega e quindi per ogni dimensione di numero di vertici esiste uno e un solo grafo connesso che lo rappresenta a meno di altri grafi che in realtà sono esattamente identici ma disegnati in un modo diverso ma in realtà il grafo dal punto di vista matematico insiemistico è esattamente lo stesso non confondiamo un grafo connesso con un grafo completo in un grafo completo vuol dire che se io prendo due vertici a caso questo e questo di sicuro c'è un arco che li collega completo un arco connesso un grafo connesso invece è un grafo in cui se prendo due vertici a caso esiste un cammino fatto magari di molti archi che però permette di andare da l'uno all'altro è questo numero di archi che cambia la differenza in un grafo completo l'arco deve essere uno solo diretto tra i due e in un caso un grafo connesso invece può esserci un cammino fatto di più archi ovviamente il numero di archi in un grafo completo è ben calcolabile ben definito è l'insieme di tutte le coppie di vertici possibili l'insieme di coppie di vertici possibili è n per n-1 oppure n per n-1 mezzi a seconda che il grafo sia un grafo orientato dove tutte le coppie possibili contano oppure la metà nel caso in cui sia un grafo non orientato in cui la coppia AB è equivalente alla coppia BA e quindi non la devo contare due volte questo per i grafi non pseudo per i grafi semplici mentre invece per i pseudo grafi dove permetto anche gli auto i cappi i self loop allora ovviamente questi numeri sono n volte più grandi perché conto anche tutti i cappi tra un vertice e se stesso questo è il numero di archi ovviamente presente in questi grafi è determinabile molto semplicemente grazie a questo si può definire un concetto che poi ci sarà utile dal punto di vista dell'analisi della complessità di densità di un grafo la densità di un grafo è di fatto il rapporto tra il numero di archi che veramente ci sono nel grafo e il numero di archi che potenzialmente ci sarebbero in un grafo completo di pari dimensioni quindi k modulo vg vuol dire vg g è il grafo v di g sono i vertici del grafo il modulo di vg è il numero di vertici di questo grafo k di questo numero è il grafo completo di questo il grafo completo di questa dimensione cioè che ha tanti vertici quanti ne ha il mio grafo g e di k sono gli archi l'insieme di archi di questo grafo completo e il numero di archi di questo grafo completo allora sto confrontando il numero di archi del mio grafo col numero di archi del grafo completo che ha lo stesso numero di vertici del mio grafo questa densità ovviamente va da 0 a 1 nel caso di un valore piccolo pari a 0 o tendente a 0 vicino allo 0 vuol dire che è un grafo con pochi archi mentre invece un valore pari a 1 vuol dire che è un grafo che ha quasi tutti gli archi quindi è estremamente denso qui c'è un esempio molto semplice di un grafo con 4 vertici quindi un grafo non orientato con 4 vertici può avere potenzialmente al massimo 4 per 3 diviso 2 4 per 3 12 diviso 2 6 archi massimi e questo ne ha 3 e quindi una densità del 50% allora la densità ci servirà quando ragioneremo sugli algoritmi e ci chiederemo se la complessità di un algoritmo dipende più dagli archi oppure dai vertici e molto spesso la risposta dipenderà dalla densità del grafo stesso quindi a seconda della densità di grafi molto densi magari è più utile usare un certo tipo di algoritmo grafi invece molto poco densi oppure molto sparsi se vogliamo usare un termine contrario invece magari useremo algoritmi tipo diverso quindi teniamo presente questo parametro che ci dice essenzialmente quanti archi ci sono rispetto diciamo al grafo completo potenziale un'altra definizione un po' particolare un po' strana è la definizione di albero un albero è vediamo la seconda riga di questa slide un albero è definito come un grafo connesso a ciclico non orientato allora innanzitutto vediamo un albero è un tipo di grafo gli alberi normalmente diciamo conosciamo intuitivamente la nozione di albero quando tu fai un organigramma ad esempio quando è una serie di elementi che vengono decomposti ad albero di ciascuno classi sottoclassi ad esempio componenti sottocomponenti la cosa che ci stupisce di più è che qua si è definita come una struttura dati undirected non orientata un albero di per sé non ha un orientamento mentre noi invece pensiamo l'organigramma come qualche cosa che ha un top e poi scende con una certa direzione un orientamento ben definito ma non è come vediamo adesso non è necessario specificare l'orientamento perché il suo orientamento si trova da solo se vogliamo dal punto di vista folcloristico il requisito di connettività di un albero si può anche rimuovere potrebbe anche non essere connesso un albero e in questo caso se chiediamo semplicemente che il grafo sia non orientato e aciclico lo chiamiamo foresta anziché albero ma al di là dell'orientamento c'è questa doppia doppio attributo un grafo aciclico quindi privo di cicli ma connesso e di fatto l'albero è uno spartiacque come vediamo tra un attimo tra i grafi aciclici e i grafi connessi è l'unico elemento in comune tra queste due famiglie di grafi allora proviamo prima di tutto a capire questa definizione allora questo grafo è un albero perché è un albero beh rispetta le tre condizioni è un grafo non orientato è un grafo connesso perché io posso andare da qualunque vertice o qualunque altro vertice ovviamente devo fare un percorso un po' lungo ma è anche un percorso obbligato perché il grafo è aciclico non avendo dei cicli dei percorsi chiusi per andare da un punto a un altro il percorso è uno solo se io per caso avessi qualche arco in meno ma mi basta cancellare anche solo un arco il grafo mi diventa automaticamente non più connesso e già perché se prima avevo un percorso solo per collegare due vertici e tolgo un arco vuol dire che quell'unico percorso che avevo non ce l'ho più e non ne ho di percorsi alternativi e quindi il grafo non è più connesso quindi se io prendo un albero così definito e tolgo un arco anche solo un arco qualsiasi il grafo diventa non più connesso noi lo chiamiamo foresta ma di fatto ci interessa soprattutto che non sia connesso e invece ripristiniamo quest'arco cosa succede se invece aggiungo un arco provate ad aggiungere un qualunque arco a questo albero dove volete il risultato che ottenete è che il grafo risultante non è più un albero perché contiene un ciclo se voi aggiungete un arco create necessariamente un ciclo quindi in questo senso dicevo che gli alberi sono lo spartiacque tra i grafi ciclici e i grafi non connessi è l'unico elemento in cui se tolgo qualcosa diventa non più connesso se aggiungo qualcosa diventa ciclico ma il fatto che siano esattamente diciamo così in equilibrio è quello che mi permette di dire che date qualunque due vertici esiste un cammino perché il grafo è connesso e questo cammino è unico perché il grafo non ha dei cicli avendo dei cicli ovviamente io la strada che posso prendere per andare da questo vertice a quest'altro ha ovviamente una parte obbligata ma poi posso decidere di passare da sopra oppure posso decidere di passare dall'arco di sotto quindi avendo un ciclo automaticamente ho più strade possibili per collegare due vertici tra di loro ovviamente non sempre perché ad esempio tra questo e questo continui a esserci un cammino solo ma in alcuni cammini in alcune coppie di vertici ovviamente i cammini sono più di uno e questo chiaramente ci può creare dei problemi quando poi avremo degli argomenti di ricerca che devono scegliere da quale strada andare se invece ho un albero la strada è già predefinita ecco per ora appunto questi alberi sono per noi strutture dati non orientate ma poi basta che noi scegliamo peschiamo un qualunque nodo uno qualunque dai vertici di un albero e questo automaticamente impone induce un orientamento in tutti gli archi quindi gli archi non sono orientati ma voi prendete un qualunque vertice di un albero e allora automaticamente tutti gli altri nodi possiamo orientarli sulla base della distanza rispetto al nodo di partenza vediamo un esempio prima poi vediamo la definizione ad esempio se io scelgo questo vertice qui così semplicemente lo coloro lo scelgo allora immaginate di prendere questo albero tra due dita e sollevarlo allora vuol dire che tutti tutti gli archi rimangono appesi a partire da questo nodo e quindi abbiamo definito una sorta di orientamento dall'alto verso il basso che di fatto dipende dalla distanza rispetto a questo nodo iniziale il nodo che chiamiamo radice di questo albero questo appunto si spiega anche perché si chiama albero perché ha una radice e quindi tutti questi archi hanno un orientamento che è indotto dalla scelta della radice ma la scelta della radice è totalmente arbitraria perché io potrei scegliere un altro vertice come radice e questo indurrà un orientamento diverso nei suoi archi e quindi vediamo che è come immaginiamo di nuovo di sollevare l'albero questa volta partendo da quest'altro nodo e allora gli archi si ridispongono in modo diverso secondo la forza di gravità e le frecce saranno di questo tipo questo ci fa capire che l'orientamento di un albero è un orientamento indotto dalla scelta della radice e la radice può essere arbitraria posso prendere un albero e appenderlo da qualunque nodo che io voglio far funzionare far agire come radice quando io parlo di un albero orientato un albero come radice io uso spesso delle terminologie per indicarmi appunto questo orientamento terminologia che a volte è terminologia geontologica cioè padre e figlio io dirò che questi due nodi sono i figli di questo nodo che a sua volta è il loro padre quindi i nodi padri o genitori o progenitori sono i nodi che vanno verso la radice mentre i figli i nodi figli o i nodi successori sono i nodi che sono più lontani rispetto alla radice la radice è l'unico nodo che non ha genitori e tutti gli altri nodi hanno esattamente un genitore questo esattamente un genitore ovviamente è una conseguenza del fatto che il grafo è aciclico e i nodi più lontani della radice quelli che non hanno a loro volta figli spesso li chiamiamo nodi foglia qui stiamo mescolando un pochino la terminologia botanica albero radice ramo con la terminologia genealogica di padre e figlio però vabbè non ci confondiamo quindi ad esempio questi sono nodi foglie 1 2 3 4 5 eccetera sono delle foglie questo invece è il nodo radice come vedete il nodo radice non ha nessun genitore perché non ha nessun arco entrante dove ovviamente l'entrante è definito dall'ordinamento indotto dalla scelta della radice quindi sui grafi avremo parecchio sugli alberi perdono avremo parecchio da parlare perché proprio sono una semplificazione dal punto di vista algoritmico è una delle cose che è una delle operazioni che faremo molto spesso è cercare di trovare un albero all'interno di un grafo per poter ragionare navigare spostarci sull'albero perché è più semplice essendo aciclico rispetto a spostarsi sul grafo in generale ok altre definizioni che aggiungiamo anzi questa è l'ultima che aggiungiamo alla nostra carrellata è quella di peso l'abbiamo già visto prima molto brevemente nelle definizioni iniziali quando parlavamo di etichettatura ma entriamo un pochino più nel dettaglio di solito quando si parla di un grafo pesato si indica un grafo in cui viene assegnato un numero che è tipicamente un numero reale quasi sempre positivo perché quando lo metto negativo di solito creo dei problemi ma a volte è necessario farlo quindi è un numero che viene associato spesso agli archi quindi quando parlo di un grafo pesato parlerò di un grafo in cui a ciascun arco può essere un grafo non orientato oppure un grafo orientato è indifferente ma a ciascun arco è assegnato un numero reale normalmente positivo ma anche se non è obbligatorio dipende un po' bisogna precisarlo ovviamente ogni volta se intendiamo un grafo pesato i cui pesi possono anche essere negativi oppure possono essere debbono essere positivi o strettamente positivi poi ci sono algoritmi che sono sensibili al fatto che questi pesi possono essere zero o possono essere negativi allora in questo caso rappresentano di solito dei grafi in cui questo valore reale indica in qualche modo il costo oppure il guadagno dipende un po' relativo allo spostarsi lungo quella quella approccio lì quella coppia di vertici e quindi in questo caso un percorso 1 4 3 avrà un costo un peso pari a 2 cioè 1 più 1 così come un percorso B, A, F, D potrà avere un peso che possiamo stimare con 0,3 più 0,9 più 1 ecco questo semplicemente è una semplice estensione del concetto di cammino in cui non ho più un cammino fatto di archi ma un cammino fatto di archi pesati e quindi il cammino stesso avrà un suo peso di cui dovrò tener conto magari per trovare quali sono i cammini di peso minimo o di peso massimo per ottenere un certo risultato quindi questo riassume un pochino le principali definizioni che ci servono nella seconda parte del video come dicevo parleremo invece della libreria Java che ci permetta di implementare esattamente queste strutture dati così come le abbiamo definite